Incontro interlocutorio ieri sera tra San Giovannese e Marzocco con le parti in causa che non hanno trovato accordo immediato sul futuro di settore giovanile e soprattutto della prima squadra, anche se si fa largo l'ipotesi di un'acquisizione da parte della Marzocco stessa dell'intero calcio azzurro. La prima opzione era infatti quella di un contributo da parte del settore giovanile per la nuova stagione di Serie D, ma sulla cifra le parti in causa non si sono trovate d'accordo, quindi ecco la strada alternativa che comunque non dovrebbe tardare troppo a vedere una soluzione definitiva. Verrà infatti analizzata la posizione economica della San Giovannese da parte dei commercialisti della Marzocco e al termine della due diligence si passerà poi all'offerta ufficiale. A questo punto toccherà alla famiglia Grazia accettare o meno, in queste ore i componenti della stanza dei bottoni hanno preferito ricorrere al no comment, ma il silenzio stampa farebbe presagire anche una volontà di andare incontro all'offerta che comunque arriverà presto. Il prossimo appuntamento è infatti fissato per lunedì prossimo, si avranno allora molti più elementi per sapere il futuro della prima squadra. A testimonianza inoltre della necessità di ritrovare la pace, ecco le dimissioni arrivate come un fulmine a ciel sereno di Daniele Donati e Carmine Iaionese, rispettivamente allenatore e vice-trene della Juniores, compito che entrambi avevano preso solo una settimana fa.